campanile no per cambiarsi è una sensazione è cambiato solo il nome della scuola è cambiato l'indirizzo stiamo microchippando un cane come si chiama questo cane? via casa d'agostino numero 8 no cambia comune è il numero del documento che disegniamo via casa d'agostino dateci l'indirizzo preciso loro perché dove deve arrivare questo qua a casa via casa d'agostino numero 28 Giuliano in campagna lo ha detto eh? aspetta se lo facciamo rosa rosa adesso ci vediamo mi dici tu quando? vado? via dentro a parete non fate parte ecco qua il codice del cane 333 si vede? ecco una sommata e per quanto devo cambiare? 9-6-5-8-6 uguale a uno scuola non me la posso neanche fare grazie a tutti